Telefoni di nuova generazione social, istruzioni consapevoli per l'uso. Questo è stato analizzato al DigiPass in via Gioia, nuova sede dell'ufficio Informa Giovani del Comune di Gubbio, nell'incontro smartphone e social network, come viverli senza diventare dipendenti. Un evento curato dallo staff di Informa Giovani, con l'operatore Riccardo Ruspi, a fare da cicerone sul tema attraverso video e approfondimenti in cui sono stati visti da vicino i meccanismi di base e le insidie che si celano dietro ad alcune delle abitudini più radicate dei giorni nostri, come ad esempio il fatto che ogni azione della nostra vita richiede oramai l'utilizzo dello smartphone e tutto ciò che facciamo viene puntualmente condiviso sulle varie piattaforme social. Possiamo vivere anche senza tutto questo? E' la domanda che è stata fatta alla platea, per di più giovanissima, con dati alla mano che rilevano come l'uso continuo del cellulare porti a numerosi stati d'ansia, mancanza di sonno e depressione per quella che diviene una vera e propria patologia, tanto che da qualche anno a questa parte nei centri che curano le dipendenze vanno anche coloro che devono disintossicarsi dall'uso scellerato di smartphone. Sul pianeta oggi ci sono più schede sim che abitanti e l'Italia è terza al mondo per diffusione di smartphone. Si parla in determinati casi di nomofobia, ovvero la paura di restare senza telefono o connessione e in più ogni giorno nel mondo vengono spedite 150 miliardi di mail, postate 66 miliardi di foto Instagram e inviati 42 miliardi di sms o messaggi whatsapp, numeri ciclopici che fanno capire l'infinitesimale diffusione di tali strumenti che al contempo necessitano di un'accuratezza e di corretti criteri per utilizzarli in modo consapevole e formativo, anziché demenziale e a volte esiziale. Questa è una tematica sempre più importante che noi cerchiamo di affrontare anche nelle scuole del nostro territorio. È una tematica importante che non è detto che sia per forza un problema, però riguardo ormai tutti, sia giovani che adulti. Ci sta cambiando, sta cambiando il nostro modo di vivere, il nostro modo di vivere il tempo e quindi dobbiamo capirne i meccanismi per poterli affrontare al meglio e gestirli. Uno studio dell'Università Californiana di San Diego ha dimostrato che avere il cellulare vicino, anche se spento, porta ad un calo di attenzione indicibile perché il nostro cervello è concentrato sui movimenti dello strumento tecnologico, aspettandosi sempre qualcosa in qualunque momento. Per questo, prima di dormire, bisognerebbe smettere di usarlo con 15 minuti di anticipo per poi chiuderlo e metterlo in un'altra stanza. Questo è solo uno dei tanti consigli divulgati da Informa Giovani che, se seguiti, permetterebbero a tutti di gestire al meglio l'uso di smartphone e social network. Noi diamo alcuni consigli pratici come eliminare le notifiche dallo smartphone, per esempio, spegnerlo prima di andare a dormire, cose semplici che però, in effetti, se non fatte, possono portarci a dei piccoli problemi che poi alla lunga possono diventare anche grandi.